Benvenuti, innanzitutto mi presento, sono Giampaolo Costantino, consulente di AIRAI e vorrei brevemente affrontare il tema di quanto possiamo attenderci nei prossimi mesi e durante il 2021 per quanto concerne il comparto del largo consumo confezionato. Dopo alcuni mesi di forte turbolenza siamo arrivati nella cosiddetta fase 3, che dovrebbe auspicabilmente guidare verso una normalizzazione sia della situazione epidemica che dei mercati di consumo. Ricordiamo che nei mesi scorsi la distribuzione moderna ha registrato elevatissimi tassi di crescita della domanda dei beni di prima necessità. Lo stesso vale per l'e-commerce, impattato da un'ondata di acquisti senza precedenti, che ha portato questo canale su livelli che stimavamo potessero essere raggiunti solo fra qualche anno. In un contesto così inedito è ancora più difficile del solito pronosticare scenari futuri basati su assunzioni inattaccabili. Noi ne proponiamo uno, costruito attorno alle indicazioni prevalenti fra gli esperti macroeconomici, i principali istituti di studi sanitari e alle opinioni di imprese e consumatori. Questi ultimi due ambiti sono stati sondati attraverso fasi successive di indagini condotte con la collaborazione del REM Lab dell'Università Cattolica. Vediamo rapidamente qual è il punto da cui si parte. Le misure di contenimento dell'epidemia adottate dalle autorità hanno spinto i consumatori a riformulare le modalità di acquisto, indirizzandosi verso tipologie di negozi e formati distributivi molto diversi rispetto alla situazione pre-Covid, con un grande impulso alle vendite nei negozi di prossimità. L'impennata dello smart working e il genere del dover restare forzatamente fra le mura domestiche sono fra gli fattori principali che hanno dato impulso agli acquisti di prodotti di largo consumo, perché hanno portato in casa i pasti abitualmente consumati in bar, ristoranti e mense. Gli acquisti hanno virato decisamente verso i prodotti confezionati, a discapito della quota parte degli alimentari freschissimi, ovvero gli alimentari freschi venduti a peso variabile, che restano fermi sui livelli dell'anno scorso. Le famiglie hanno spostato i propri budget di spesa verso l'alimentare, sottraendo denaro a ciò che era rimandabile, un comportamento che nell'eccezionalità del periodo ha interessato trasversalmente i ceti sociali e le diverse generazioni. A partire dagli inizi di giugno, con l'ulteriore allentamento delle restrizioni, si assiste ad un primo rallentamento della domanda del largo consumo confezionato. La corsa alla costituzione delle scorse domestiche si è ridimensionata già da tempo, mentre più resiliente è la domanda per far fronte ai pasti in casa, grazie al protrarsi della condizione di lavoro agile per molti colletti bianchi e alla chiusura delle scuole. Sul fronte dell'offerta, la forte riduzione del ricorso alle promozioni di prezzo e le inevitabili inefficienze della filiera, soprattutto nelle prime settimane della crisi, hanno surriscaldato i prezzi al dettaglio. I primi segnali di un ritorno alle politiche di convenienza si stanno però già manifestando in giugno. Noi ipotizziamo che l'epidemia nel nostro Paese si possa evolvere con un carattere endemico, cioè con un numero contenuto ma continuo di nuovi contagi, con piccoli focolai circoscritti, in prevalenza originati dall'estero. Rimarrà uno stato di cautela sia ufficiale, verranno perciò mantenute le principali regole di base anticontagio da parte dell'autorità, sia psicologico per la gran parte della popolazione. Tuttavia le maggiori conoscenze mediche ed organizzative acquisite durante la fase acuta del Covid-19 dovrebbero scongiurare e ripresentarsi di nuove situazioni di elevate criticità per il sistema sanitario. Esiste comunque la probabilità di nuovi innalzamenti del livello d'allarme, soprattutto durante il prossimo autunno-inverno, quando l'epidemia si sommerà alle normali patologie stagionali, con possibile ondate di ansia sociale limitate nel tempo. Secondo le nostre stime econometriche, questa eventualità potrebbe generare impulsi alle vendite del largo consumo del più 3-4% su base mensile. Ovviamente l'assioma fondamentale dello scenario epidemico adottato è che all'eventuale messa a punto di un vaccino, unica vera risoluzione dell'epidemia, realisticamente non potrà raggiungere una sufficiente copertura della popolazione mondiale già entro il 2021. Il secondo semestre di quest'anno rappresenta quindi l'ingresso del mercato in una nuova fase, dominata da fattori economici sia del carattere generale che di filiera. Da oggi lo scenario della domanda sarà perciò condizionato dagli effetti del calo del reddito. Per recuperare o difendere le posizioni perse o acquisite nella fase acuta del lockdown, al recupero della completezza sortimentale, i player della filiera del largo consumo affiancheranno investimenti in prezzi e promozioni per sostenere i volumi acquisiti nella fase emergenziale. Si assisterà congiuntamente ad un ritorno alle politiche di fidelizzazione dei consumatori. Dopo lo spostamento degli acquisti verso i formati distributivi di prossimità durante il periodo di lockdown, si sta osservando già in fase 3 un ritorno agli assetti pre-Covid. In questo giocherà un ruolo fondamentale appunto il dispiegamento delle leve di marketing, fra cui in primis prezzi e promozioni. Invece non arretrerà il canale dell'e-commerce che consoliderà le posizioni acquisite durante la fase acuta della crisi sanitaria, proseguendo la sua espansione. La migrazione dei pasti fuori casa, in casa, sarà ancora un elemento determinante per l'evoluzione della domanda. Questo è stato, come abbiamo visto, uno dei fattori principali che ha causato l'impennata delle vendite nel corso della fase critica dell'epidemia. Con la riapertura di bar e ristoranti si sta assistendo ad un graduale rientro del fenomeno, ma le indagini sui consumatori effettuate all'inizio di luglio orientano però verso tempi lunghi per una completa normalizzazione. Infatti, una quota significativa dei lavoratori si aspetta di continuare a lavorare da casa e quasi il 40% dei consumatori dichiara ancora una certa riluttanza a frequentare assiduamente i locali pubblici, anche in futuro. La nostra ipotesi è che in prospettiva la distribuzione continuerà ad assorbire una quota parte della domanda alimentare, altrimenti soddisfatta in bar e ristoranti. Stimiamo che questa fetta della domanda inciderà ancora per il 2,6% sulle vendite di alimentari e bevande nel secondo semestre di quest'anno, per poi scendere gradualmente fino all'1,3% nel secondo semestre del 2021. Quali sono i numeri attesi per le vendite del largo consumo confezionato nel retail in questo scenario? Nel secondo semestre del 2020 le vendite, pur fluttuando parecchio lungo le settimane, cresceranno minimamente, poco sotto il mezzo punto percentuale, sia a valore che a volume, grazie allo stop dei prezzi, fermi sui livelli della controcifra dell'anno scorso. Salva il fatto che, l'andamento climatico estivo, fino ad oggi sotto tono rispetto agli ultimi anni, non vada a limare qualche ulteriore decimo di punto di crescita per le categorie stagionali, fra cui in primis gelati e bevande. Il saldo dell'anno sarà tuttavia positivo, grazie all'eredità del periodo Covid, con un più 4,6% dei ricavi e un più 3,8% degli acquisti a volume, sempre clima permettendo. La forte crescita del primo semestre di quest'anno sarà scontata inevitabilmente nella prima parte dell'anno prossimo, un handicap che condizionerà il bilancio di tutto il 2021, con un calo superiore al 3% sia a volume che a valore. In generale lo scenario resterà comunque ancora dominato dagli effetti causati dall'arretramento dal reddito, sia in livello che nella sua distribuzione, che non si riprenderà pienamente nel corso del 2021. Nel secondo semestre dell'anno prossimo si prevede però un riallineamento del trend delle rendite su tassi di crescita fisiologici, comunque inferiore ai due punti percentuali, ancora supportate da prezzi deboli, una forte spinta promozionale e una parte residuale di domanda fuori casa ancora rimasta fra le mura domestiche. Nonostante il clima economico non favorevole, le nostre previsioni indicano comunque che le vendite del largo consumo confezionato nel 2021 saliranno al di sopra dei livelli raggiunti nel 2019. Al di là dei numeri complessivi, come cambierà il carrello della spesa dei consumatori? Lo shock da coronavirus ha portato ad accelerare la tendenza già in atto negli anni scorsi, volta l'aumento della quota alimentare. Nel secondo semestre del 2020 continuerà perciò la crescita dei ricavi per i reparti alimentari, anche se a tassi più contenuti, ancora sostenuti dalla domanda domestica suppletiva dei pasti fuori casa. Il comparto raggiungerà nuovi equilibri destinati a consolidarsi l'anno prossimo, con le vendite alimentari che rappresenteranno il 67,7% della spesa del largo consumo confezionato, un guadagno di oltre un punto rispetto alla situazione pre-covid. Il canale si orienta sempre di più verso una specializzazione di fatto. Evidenziamo che è soprattutto la crescita delle vendite e degli alimentari freschi confezionati che determina la figura che noi prospettiamo. Ovviamente questa affermazione esclude i negozi specializzati in casa e persona, che riprenderanno appieno il loro ruolo in queste merceologie. Le difficoltà incontrate fin dai momenti iniziali dell'epidemia da covid-19 hanno portato molti consumatori ad accedere al canale online. Le nostre proiezioni indicano che l'e-commerce nel largo consumo confezionato potrà raggiungere in un paio d'anni una quota non trascurabile, circa il 3,6%, sul totale delle vendite, agganciandosi agli standard di alcuni paesi europei dove il fenomeno è più sviluppato. La formula del click and collect, ovvero ordinare, fare l'ordine online ed andare a prendere la spesa in un punto di consegna, è quella che ha avuto i migliori riscontri. La quasi totalità dei player della GDO e dell'industria di marca indica questo canale come il fattore di sviluppo principale nei prossimi anni. Ci aspettiamo che le dinamiche promettenti delle vendite attirino nuovi player, aumentando la concorrenzialità di prezzo in un ambito che fino all'altro ieri era dominato dal puro ruolo di servizio. L'e-commerce nel largo consumo assume sempre di più il profilo del canale fisico e si appresta a competere direttamente con esso o a diventarne un complemento indispensabile. Chiudo questa breve analisi sintetizzando la situazione prevista per il largo consumo con alcune pillole. Quindi passiamo dall'effetto lockdown al dominio dell'effetto reddito, in forte calo e con significativi cambiamenti nella sua distribuzione. Dall'aumento dei prezzi stiamo tornando a politiche di convenienza per sostenere i volumi e per rilanciare l'azione concorrenziale. Si assisterà alla normalizzazione dei rapporti di forza fra i formati dei negozi favoriti dalla ripresa degli investimenti di marketing, ma si lavorerà alla ridefinizione dei ruoli strategici dei versi formati distributivi. La distribuzione moderna del largo consumo, on e offline supporta sempre di più la domanda alimentare. L'e-commerce mantiene una crescita elevata e diventa un concorrente o un complemento importante per i negozi fisici. Con questo concluso e vi ringrazio per l'attenzione.